Inferto un duro colpo alle indrine e gemoni nel Regino, i carabinieri hanno eseguito in diverse regioni, in due operazioni congiunte, innumerevoli arresti 65 in tutto, 47 in carcere, 16 ai domiciliari e due obblighi di dimora. I ROS di Brescia hanno effettuato 13 arresti, 12 in carcere, 1 ai domiciliari. Le cosche interessate dal blitz sono i bellocco di Rosarno, gli spada di Ostia, due destinatari di misura, i lamari, la rosa, pesce della piana di Gioia Tauro. Per il territorio del Bresciano, il ROS ha operato insieme alla Guardia di Finanza per un sequestro preventivo di imprese, beni immobili, quote societarie per un valore di circa 5 milioni di euro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, porto e detenzioni di armi comuni e da guerra, estorsione, usura, danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso, nonché associazione finalizzata al traffico di droga, riciclaggio, autoriciclaggio e associazione per delinquere finalizzate, reati tributari e frodi in danno dello Stato. Sul fronte regino dell'operazione, i carabinieri ritengono di avere portato alla luce i nuovi assetti della Cosca Bellocco al vertice della società di Rosarno, con interessi sull'intero territorio nazionale e in diversi paesi esteri. L'indagine regina, denominata Blu Notte, è stata svolta dai carabinieri del nucleo investigativo di Gioia Tauro tra il settembre 2019 e l'agosto 2020 nei confronti di elementi di spicco della Cosca Bellocco. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria ha determinato anche il sequestro preventivo di una ditta attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive utilizzata per agevolare le attività criminali della Cosca, il cui valore complessivo è stato stimato in 700 mila euro. Alla fase operativa dell'operazione hanno partecipato circa mille militari.